Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stanno costruendo la mole. Stanno costruendo la mole. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. i personaggi che vedete nel mio film sono le persone che sono anche a tutti. e a tutti. e a tutti. tutti questi sono le cose più banali e più normali che vediamo nella vita. Grazie a tutti. 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 Non sono capace di fare un film con un finale, chiuso, in questo senso, con un finale chiuso, anche perché io penso che la vita non abbia mai un finale chiuso, a meno che tu sia morto. Io credo di essere una persona molto, come dire, razionale, quando giro il film. Io penso che sia una persona molto, come dire, razionale, quando giro il film. Quando faccio il film, mi piace, come dire, mi piace fare come un chirurgo che fa la sezione del mio personaggio. Quindi io faccio la sezione con pistoli per vedere una persona. Ma qu'è spende pensare la certa cose che fa s' pozwino aiutare tolосто in altre cose. Io non sono un ruide ag Mhm. Io non Gesù. Che fa esare un attraire, io non vorrei domandare. Non riesco tanto. E il primo film che mi ha dato uno spunto su come il rapporto tra la persona e l'ambiente in cui vivi. E il ritmo è un accanto. E il ritmo molto piacevole, il ritmo molto più di più. E il ritmo molto più di più. E il ritmo è un tipo di ambito. Ma che si trovi passano. Ma che sono... Ma che ha dicevano sia più di più di più. Ma che è l'ambiente in cui si trovi passano. che mi piaceva tanto andare in giro, fuori casa, in città, eccetera. E in questi suoi giri, vagabond, città, ti fa sembrare che in realtà lui dialogo con la sua città, con l'ambiente, con l'ambiente di cui vivere? Io, come dire, in città di un'ambiente di cui viviamo, città è grande, quindi non possiamo conoscere tutte le parti di questa città, però sicuramente tutti abbiamo una parte di quella città che ti compisce di più, ti dà, come dire, più senso di familiarità, ti piace di più. E quindi mi piace appunto attraverso il mio film. In quel film avevo esigenza di girare l'immagine di un vecchio cinema, è un tipo di cinema con cui ho passato la mia infanzia, quindi deve essere un cinema di vecchio stile e cercavo questo tipo di cinema in Taiwan. e quindi con una sala enorme, magari di mille posti. e in soltanto Taiwan, magari di mille posti. 生活的形態,我們不能阻止它, perché il mondo一直在往前走, 走得越來越快, è un tipo di感覺. E fa parte dello sviluppo, dell'evoluzione, del mondo, della società. Quando siamo in una sala piena, ti fa sentire così bene, a pensare che finalmente ritorniamo al cinema a vedere un film come si deve. io sono molto ossessionato dal cinema, proprio parlo del spazio del cinema, perché io credo che è l'unico luogo dove puoi veramente apprezzare un film. che è in un film come in un film come in un film come si può vedere? ?". In un cinema, quali tipo di film possiamo vedere? Il film che vediamo in un cinema è veramente un film libero, vale la pena? Oppure guardiamo un film, in realtà questo film è solo un prodotto commerciale? Il nostro mondo può cambiare solo per il fatto di andare a vedere un film in cinemasiata nel momento in cui è uscito il film Goodbye Dragon Inn. Avete capito? Avete capito? Avete capito? Avete capito? Avete capito? Grazie.